Ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube, oggi nuovo video e andiamo a vedere insieme un modulo che ho giocato in questi ultimi giorni dopo la patch che mi sta piacendo veramente tanto con delle belle opzioni lì davanti e con queste tattiche secondo voi vi potete divertire e poi vi spiego bene il perché anche quali giocatori utilizzare nei determinati ruoli. Allora la formazione in questione della quale voglio parlarvi è il 4411 e già che voi lo guardate così secondo me potete avere un po' i flashback del Vietnam perché vi ricorda quello che è un 451 che vi avevo già portato qui sul canale e che infatti vi invito a rispolverarvi perché secondo me con questa patch anche quello ritorna abbastanza fruibile. Ovviamente tutto quello che vi porto come al solito non è che cancella il precedente ma bensì vi dà delle opzioni in più. Sto 4411 perché mi sta piacendo? Perché è una formazione molto equilibrata, abbiamo una linea difensiva 4 che comunque è schierata bene e ci permette di poter coprire gli inserimenti avversari anche sull'esterno. Abbiamo una linea di centrocampo dove nonostante non abbiamo due mediani abbiamo due cc che però fanno bene entrambe le fasi e con i quali riusciamo a schiacciarci davanti la difesa per evitare di prendere i difensori centrali. Le nostre due ali, i nostri due esterni chiaramente devono andare a dare manforte alla nostra punta, stessa cosa lo farà il trequartista. La scelta dei giocatori bene o male è su due terzini che poi vedremo io non è che faccio salire più di tanto quindi li terrei comunque un po' più difensivi rispetto che offensivi se dovete scegliere. I due difensori centrali devono essere sempre abbastanza complementari quindi magari uno un pelo meno automatico e uno un po' più automatico. In questo caso per me è importante che almeno uno dei due abbia il procione che attualmente in difesa è veramente fondamentale. I due centrocampisti, qui possiamo scegliere anche due centrocampisti che difendicchiano ma diciamo che la cosa primaria che hanno è quella di avere dei buoni piedi per servire e rifornire i nostri giocatori offensivi che sono esterni trequartista e punta, esterni giocati rigorosamente sul loro piede forte per cercare di sfruttare le trivele che rimangono molto forti. Leao purtroppo l'ho dovuto mettere lì nonostante sia destro perché non potevo metterlo a destra. La posizione di trequartista fondamentale anche qui un giocatore che bene con i passaggi ma soprattutto poi quando arriva in zona di tiro deve segnare e la punta la sto preferendo in questo periodo col tiro a giro perché è una opzione in più. Andiamo a vedere però le tattiche di questa formazione partendo come al solito ovviamente da ricordarvi che trovate il codice qui nel primo commento quindi ce l'avete lì non ve lo perdete. Per quanto riguarda lo stile costruzione della manovra utilizzo un passaggi corti in maniera tale che i giocatori cercheranno di giocare nello stretto avvicinarsi l'uno all'altro e favorire le opzioni di passaggio. La linea difensiva utilizzo alta 71 per favorire quello che è l'utilizzo del fuorigioco automatico in maniera tale da avere una linea compatta anche quando magari l'avversario ci sta facendo del giropalla al limite della nostra area di rigore. Per quanto riguarda invece i ruoli dei giocatori abbiamo il portiere che possiamo utilizzare sia sul portiere classico che portiere fuori dai pali. Io preferisco portiere fuori dai pali perché mi dà una mano maggiore in quelli che sono in situazioni di uno contro uno con l'attaccante lanciato. I due difensori centrali li vado a schierare con difensore e difensivo come focus potete vedere che in questo caso dunque con il grafico andranno a coprire praticamente tutta l'area di rigore ma molto bassi quindi impedendo all'avversario di trovarli fuori posizione. I due terzini gioco su terzino bilanciato questo per quale motivo perché non voglio che uno dei due mi salga in maniera automatica voglio poter scegliere io magari in base a quelle che sono le situazioni di gioco quale terzino farmi salire con l'L1 e poi magari andare a caricare l'azione su quel lato lì per cambiare dall'altra parte creando superiorità numerica. È un po' questo il giochino che si fa con il terzino quest'anno. Poi per quanto riguarda i due centrocampisti che come potete ben vedere qui sono un po' più arretrati ma di base ci daranno una mano anche nella costruzione della manovra vado ad utilizzare sulla Guiarro centrocampista di contenimento perché tra lei e Amsic ovviamente mi vado a scegliere il più difensivo sulla carta e lo tengo un po' più dietro vedendo facendo andare a coprire questa ampia area di gioco comunque davanti la difesa con Amsic utilizzo invece il box to box in maniera tale da favorire quella che è la sua avanzata a dare una mano in zona d'attacco sui due esterni utilizzo attaccante interno con offensivo le Ao e con equilibrato la Hansen questo per avere la Hansen che magari gioca un po' più interna a prendere il pallone mentre le Ao si butta un po' più in profondità qualora abbiate problemi soprattutto con la Hansen che diciamo tra lì due o comunque tenendomi generico problemi con l'esterno che gioca col suo piede forte quindi che vi viene troppo dentro e non riuscite a fare le trivele mettetelo con Ala che sta un po' più largo io però preferisco attaccante interno perché dopo la patch si fanno dei movimenti migliori e con Ala le volte ho riscontrato che il giocatore tendeva un po' ad isolarsi per quanto riguarda invece il trequartista utilizzo attaccante ombra con attacco in maniera tale che vedete va a riempire l'area di rigore e anche in questo caso l'attaccante ombra è un ruolo che è stato potenziato e quindi farà dei movimenti migliori la punta invece con Rapace non mi interessa in questo caso che la Shelly abbia tutt'altro ma voglio che rimanga in area di rigore a fare densità questo perché ve lo ricordo per l'ennesima volta non dovete essere schiavi di quelli che sono i ruoli dei giocatori a me interessa poco in questo caso che Theo abbia falso difensore plus plus a me che Theo mi faccia il falso difensore mi vada a giocare addosso ad Amsic lasciandomi la fascia scoperta non mi interessa quindi io lo lascio sul terzino bilanciato e come potete vedere poi da senza palla con la palla la squadra diventa una sorta di 4-2-1-1 con i due esterni poi che si sono alzati quindi un 4-2-2-1-1 invece del classico 4-2-2-2 che siamo abituati a conoscere con il trequartista che vi assicuro non si peste i piedi con la punta ma anzi riescono spesso a scambiare e darsi degli assist a vicenda Leao riesce sempre a ricamare dall'esterno verso dentro per i giocatori che arrivano e la Hansen in questo caso invece si ritrova in una posizione un po' più arretrata per sparare le trivele e impensire l'avversario anche da fuori per quanto riguarda invece i nostri due centrocampisti vi ripeto Amsic è sicuramente quello dei due che viene a dare maggiormente fastidio però come potete vedere comunque nonostante io gli abbia messo box to box non è che si ritrova troppo fuori posizione quindi vi dicevo in precedenza questo comunque ci aiuterà ad avere un giocatore che si schiaccia abbastanza bene davanti alla linea difesa il recapino ci dice che i giocatori non si stancano troppo, ha un bel approccio spregiudicato, ha una buona creatività nei ruoli ci dice che la difesa è facile da sovrastare ma in realtà no perché si difende discretamente bene e si ha dipendenza dal possesso chiaramente perché questo è un modulo col quale bisogna far girare la palla ma la tendenza di far girare la palla fondamentalmente da pre post patch è sempre la stessa quindi provatelo, fatemi sapere perché secondo me è un modulo che merita e col quale mi sto trovando bene ragazzoni per questo video come al solito è tutto io vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e farmi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di queste tattiche vi ricordo poi che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma viola non mi resta altro che augurarvi una buona giornata un saluto da voi Silberowski e a presto, ciao!